Ogni anno, l'8 marzo, si ricordano le conquiste sociali, economiche e politiche, ma anche le discriminazioni e le violenze di cui le donne sono state e sono ancora oggetto. È un'occasione per discutere dei diritti che ancora vengono negati e delle problematiche che devono affrontare ogni giorno. Non è un caso se APMAR, Associazione Nazionale Persone con Malattie Reumatologiche Rare, è per lo più formata da donne. Lo sapevi che il 70% di chi soffre di una patologia reumatica è donna? Oggi vogliamo celebrare la forza di volontà e il coraggio di queste donne, che ogni giorno si svegliano, convivono con il dolore e fanno di tutto per combattere le malattie reumatiche croniche altamente invalidanti. Ricordati di loro anche domani. Sostienile. Sostieni APMAR.